La politica interna tiene sempre banco il futuro del referendum costituzionale. Simona Burattini. Dobbiamo pensare ai veri problemi dei cittadini. È un attacco all'immobilismo del governo, quello del Movimento 5 Stelle, che torna sul referendum costituzionale per ribadire una posizione chiara da sempre. Il governo impone una riforma della Costituzione sbagliata e Renzi, che ha contestato ovunque vada, temporeggia sul referendum, mentre 12 milioni di italiani vivono in povertà, 11 milioni non possono curarsi e laboratori e imprenditori sono in rovina a causa delle tasse sempre più elevate. Per questo il Movimento 5 Stelle è concentrato su quello che serve al Paese e sui veri problemi dei cittadini.